Vai, 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 vai! Cuomo! Gira, gira, gira! Guarda Luca! Guarda qua alle spalle, sei! Vai giù! Tanto lento, tanto lento! Mio amore, sei che lo fa? Gli ha dato foglio? Ma cosa è? Ma qui? Mio amore, sei che lo fa? Mi ha dato foglio? No, no, gli ha dato rigore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Non puoi uscire, sennò chi metterà il terzo. Ah, è uscito Stefano, Ortalda. Non abbiamo cambiamento. Non è carlo fuori. Dai, dai, dai! Chi ha segnato? Non l'ho visto. Rifami vedere. Non l'ho visto neanche io. Mi sono distratta a guardare la ragazza a terra. Non l'ho visto, non so neanche se l'ho ripreso. Allora, pure tu, però cosa ti paghiamo a fare? Mi ero... Mi ero già riguardo.